Celebrare un cittadino di Torre del Greco che si è distinto nella sua carriera e riflettere su una tematica complessa e di grande attualità. Grande partecipazione ieri sera nella sala consigliare di Palazzo Baronale in occasione della presentazione del libro di Luigi Pagano, il direttore, 40 anni di lavoro in carcere. Un volume che racchiude un lungo percorso professionale ed umano, raccontando quei luoghi dall'interno. Per me è un ritorno piacevolissimo. Poi se leggere il mio libro ed essere celebrato, metto le virgolette naturalmente, qui nel mio paese, per me è una sensazione veramente meravigliosa. Sono onorato di essere stato chiamato, sono onorato proprio di trovarmi qui in comune dopo aver vissuto da ragazzino di strada a Torre del Greco. Ci vogliamo fare un piccolo escursus? Mi piaceva molto il diritto penale. Non è che mi vedessi proprio in carcere, però avevo stabilizzato il piano di studi in diritto penale con una specializzazione in criminologia. Poi andando proprio alla scuola di specializzazione trovai questo bando di concorso per direttore di carcere. Era il periodo del sequestro a Moro, c'erano poche persone, vinsi e poi sono rimasto 40 anni in carcere. Dopo Pianosa, Batecarros, Noro, quindi Asinara e poi via via Brescia, Taranto e poi 15 anni a San Vittore, provveditor regionale e poi vice capo di partimento. Con lo sguardo da ragazzino di strada, da mezzo scugnizzo come ero qui a Torre del Greco a diventare vice capo di partimento delle carceri italiane e si acquista anche uno sguardo particolare con una maggiore sensibilità sui problemi carcerari. Mi fa veramente piacere che un corallino alla fine di un suo percorso professionale così ricco e così vario che ha compendiato in un libro che ho divorato con molto piacere trovi proprio a casa sua, in un ritorno alle sue radici, un ameritato riconoscimento. Certamente è uno dei non pochi orgogli di Torre del Greco. L'evento promosso dal Comune e dall'Ions Club Due Torri, Torre del Greco, è stato patrocinato anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Ho contribuito a organizzare questo convegno che è di estrema attualità. Ci fa onore e piacere che un nostro concittadino con questa grande esperienza che ha avuto l'esperienza con il carcere di Bollate, che ha gestito terroristi, ha gestito lo stesso carcere di massima sicurezza, che scrive un libro che ci porta dentro le carceri, ci dà questo privilegio di rimanere fuori sapendo quello che cade dentro. Ben felice di aver aderito a questo invito che ci consente un duplice scopo, quello di celebrare un cittadino torrese celebre che si è distinto nell'arco della sua carriera per il grande valore umano oltre che professionale e quello anche di parlare di una tematica molto delicata se si pensa che dall'inizio del 2022 ci sono stati quasi 60 suicidi in carcere, il doppio forse di quelli che ci sono stati l'anno scorso e nel mese di agosto in particolar modo ce ne sono stati tantissimi, quindi riflettere su queste tematiche è sempre importante. E' intervenuta anche la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Siamo orgogliosi di averlo qui in città perché la sua non è una storia comune, ci ha raccontato nel suo libro quali sono a volte le condizioni disumane nelle quali vivono i detenuti e qual è la sua idea invece di carcere che non deve essere appunto soltanto un luogo di restrizione ma una vera e propria città penitenziaria nella quale si mette al centro la dignità dell'uomo perché il carcere deve togliere la libertà ma non la dignità e quindi ponendo questo al centro si dà la possibilità così come recita anche l'articolo 27 della nostra Costituzione di una vera e propria rieducazione del detenuto perché la possibilità di inclusione sociale deve avvenire innanzitutto durante il periodo della detenzione. Il carcere dunque come luogo di rieducazione che mette al centro la dignità dell'uomo. Conferito all'autore del libro un importante riconoscimento dal sindaco Giovanni Palomba. Questa è una figura importantissima sia per la città che per i giovani. Sì, è una figura importante anche perché sono quelle spiegazioni che servono quella che è la vita carcerare. Nel lato, ripeto, ancora una volta dell'umanità del carcerato, di tutte quelle che sono le vicende all'interno del carcere e quello che si può fare affinché quella che è la detenzione può diventare quella che poi può riportare il detenuto a una vita nel momento in cui sconta la sua pena in una vita di normalità quando è fuori dal carcere.